Buongiorno, siamo vicino alla partenza della gara organizzata dagli amici della Brambillese, una gara che in provincia oggi c'è solo questa categoria, esordienti primo e secondo anno, per tanto è lo giusto e doveroso essere qua presenti oggi, sono qua a zona di partenza, sono venuto a trovare gli amici di Brambilla in bici, ho faticato un po' ma sicuramente loro faticaranno molto di più, daranno il via fra pochi istanti qua in quel di Zogno, stanno scendendo ora da Brambilla, poi saliranno al nostro Val Brambanna, bellissima valle che vale la pena sicuramente vedere, faranno il giro, ritornaranno indietro, arriveranno a Zogno, gireranno a destra e poi saliranno verso Brambilla fino ad arrivare all'Axolo dove di fronte al ristorante La Rua ci sarà l'arrivo, sicuramente ci sono tanti partecipanti, speriamo che tutto vada bene e lo credo comunque perché l'organizzazione della Brambillese sicuramente si è stata importante e pertanto vediamo cosa succederà oggi. Chi vince, vincerà sicuramente un bel ragazzo, un bravo ragazzo, un forte ragazzo perché sicuramente il percorso è lineare ma è abbastanza impegnativo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Buongiorno a tutti! Oggi siamo qui al ristorante La Rua, noi abbiamo effettuato il 23esimo trofeo e il 13esimo trofeo esordienti, due categorie unificate organizzate dal pedale Brambillese. Ci fa piacere avere con noi Gilberto Simone, il grande campione, Trentino, che io adoro molto, è stato un grande campione, ci fa piacere che è qui con noi. Sono qui innanzitutto per la gara dei ragazzi, di esordienti, ho anche mio figlio che corre tra queste categorie, quindi insomma era una bella gara, una delle poche gare con un arrivo un po' importante in salita, poi io va bene, qui queste salite, queste strade le ho girate un po' tutte, tra Giro e Lombardia, Giri Italia, settimana Bergamasca, quindi insomma tornare qui è sempre un bel rimettersi in mezzo ai ricordi. Un caro saluto a tutti gli amici bergamaschi, ciclisti, tifosi, avversari, perché qui ne ho avuti anche tanti avversari, perché insomma... Sì, è vero, è vero, dobbiamo anche ricordarci che Felice insomma ci accompagnerà dal cielo adesso nelle nostre pedalate, quindi insomma anche lì un bel ricordo di un grande campione. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero.